Come vorresti un tuo uomo ideale? Deve ancora nascere, no? Lo devi ancora trovare, è diverso. E quanto devi aspettare? Carino, simpatico, ballerino, yes! Guarda come gli brindano gli occhi a mister Pizzica Pugliese, ragazzi, eh? Non è male, Pizzica. Hai capito, eh? Hai sentito? Anche questo, eh? È già arrivata, ha già catturato la fiducia della new entry qua, ragazzi. Sì, sì. Bene, complimenti. Invita a ballare, quando sarà, dai. Assolutamente sì. Adesso ci facciamo l'antipasto e qui partiamo. Molto volentieri. Grazie a te. Grazie, Lucia. Ragazzi, Lucia è la numero 22. Gli piace a mister Pizzica, ma non è che hanno già fatto il contratto, eh? Quindi potete scrivere alla ventina perché qui il concorso è aperto. Questi due quadri sono. Scrivete, scrivete. Che bello, eh? Che bello, eh? Puoi, sì. Scrivete, 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 scrivete. Allora, vediamo un attimo questa signora qua. Ciao. La numero 2. Come viviamo? Katia, con la C o con la K? No, scusate. Con la K, ragazzi. Questa è la serata della K. Viva. Da dove vieni, Katia? No, scusate. No, scusate.